Se usi più di un caricatore ad arma, il video finisce. E allora ditemelo che mi volete male. Su, ditemelo, vai. Voi mi volete male. Signori, come avrete letto dalla intro, che non è tanto una intro ma avete capito cosa intendo, moriremo facilmente, sì esatto, moriremo molto facilmente in questa challenge, perché appunto possiamo usare solo un caricatore, quindi opto per l'opzione 3 tentativi, che ormai è diventata un hit, un qualcosa di sacro e conosciuto a tutti sul mio canale, ovvero l'opzione dei 3 tentativi. Cosa intendo per quella? Beh, ho deciso di utilizzarla appunto perché moriremo molto probabilmente, tipo subito. Ovviamente dobbiamo usare solo un caricatore, quindi opterei per qualche arma bella corposa di caricatori. Ok, per ora abbiamo una tripletta che coi suoi 30 colpi schifo non fa, però è in questi casi che un player medio di Fortnite si metta a piangere ripensando al mitraglione. Ecco, lanciarazzi. Vabbè, lo te... Uh, 10... 10 cose di fiocina, quasi quasi. Il pompa preferirei un tac a 8 colpi, le band ovviamente ce le prendiamo. Allora sento un tipo, piccolo upgrade e direi anche... Vabbè, per ora lascia in giù l'M4? No, lascia in giù le granate, perché tanto poi dovrò... Cioè il mio piano è appena finisco un caricatore, tipo questo qui della tripletta, prendo subito l'M4. Tech e master è fuori... Oh oh oh. C'è un tipo, eh? Signor e signori c'è un tipo. C'è pure un elicottero, vabbè, bordello dove siamo? Nel Vietnam. Mettete che bordello Oh, 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 chi l'aveva visto sto tipo? Prenditi il razzo Boom Addio lanciarazzi Hai fatto il tuo lavoro È stato... Oh, yes, stack blue, signori Qua sono stato bravo Devo ammettere che qua sono stato molto bravo Lascio l'M4 per prendermi la mitraglietta Perché può tornare utile E vedo che mi stanno sgranellando Eh sì, mi sa che ci va Oh, guardalo qua, guardalo qua Un colpo, due colpi Tre colpi, quattro, ok Forse c'è un altro, sì Dai, perché... perché... no No Ok, ok Yeah Yeah, signori Yeah Non chiedetemi come Mancano due colpi di pompa Tra l'altro siamo saliti di livello al 129 Allora, mi do sto medikit E vabbè, l'altro meno tengo Due colpi di pompa, quindi Dobbiamo stare attenti Però almeno abbiamo preservato le armi E tra l'altro tre kill, vabbè, fuori di testa Non chiedetemi come ci sia arrivato a questo punto del game Perché non ve lo saprei dire L'elicottero è sempre lì Sempre cattivo Pronto ad ucciderci Io direi di lutare E in caso vi faccio un taglio Se trovo un pompa verde a otto colpi Me lo prendo anche volentieri Non vedo nessuno Però C'ho il massimo di legna Sì No, ah non c'ho gli scudi Ecco cosa non ho Dai, dammi qualcosina Che schifo Dai, mi servono degli scudi, signores Altrimenti qui è la fine Tra l'altro Se questa partita va anche bene Quasi quasi Non applico la formula del Terzo tentativo Dei tre tentativi più che del terzo Però non ho scudi E sinceramente non saprei come fare Quindi Basta lutare Sono al massimo di legna Non mi serve a lutare Quindi dai Davvero non mi dai degli scudi qui dentro Gioco Davvero gioco Non mi dai degli scudi Sei un pezzo di fango Gioco Sei un pezzo di fango Oh E se prendessi l'ombrellino? Eh signori Se prendessi l'ombrellino Quasi quasi me lo prendo A parte che a farmare Mi sa che ti da meno materiali Ok Che cattiveria Ti da meno materiali Però In più Più in fretta Molto più in fretta Vabbè Sti colpi me li prendo Non servono a niente Ho trovato uno scudo Però non trovo i nemici Potrebbe essere bene Potrebbe essere male No Fatto sta che Vorrei trovare un altro scudo Allora Sono corso fino a sta zona Perché Ho visto C'è gente Ok Perfetto Buongiorno No dai No dai Stavi per morire Sei one shot bro Ok Usiamo tutto il pompa No Z E prendiamoci pure il suo pompa Perché il nostro era praticamente finito E prendiamoci No No Meglio il mio Meglio il mio Meglio il mio Ritiro tutto quello che ho detto No Non ricaricare 21 colpi Ok Perfetto signori Quattro kill Buone Colpi Buoni Direi proprio Che abbiamo trovato un pompa 8 Colpi Pompa 8 Colpi Pappappero Ok Oh Pomp 8 Colpi Blu Bene Allora dicevo Prima che succedesse tutto Prendo l'elicottero E me ne va Ah Però vabbè Prendo l'elicottero E me ne vado A trovare la gente Proprio andiamo lì Li salutiamo Mancano 17 persone 4 kill Abbiamo fatte Mi si era un attimino Buggato E bene Lì forse fightano No Non fighta nessuno Salve Come Come la Come la mettiamo Sotta Ok Mi è piaciuto un botto Sotta Vai 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 All'ultimo Scontro all'ultima elicotterata Boh Beh mazzalo Siamo più forti noi Siamo più forti noi Sotta Ma vieni sull'elicottero Non fare lo schifoso Sì devo scendere Devo scendere No no Però io volevo fightare con l'elicottero E mi sono auto chiuso Sono un idiota Dai Volevo fightare con l'elicottero Oh 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 Dai Che schifoso MS Mi arc Mi arc Signori Credo che un secondo tentativo Non ci sarà mai Dai che palla Era una bella partita Guarda come l'uno Puta bagnina infame Per te solo le lame Vabbè Mi tolgo le cuffie Come alla fine Di ogni video Non metterò la musichetta finale Perché è stata una buona challenge Vabbè che capelli c'ho Vabbè 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 Lasciamo perdere Dicevo è stata una buona challenge Sì Potevamo fare meglio Sì Però abbiamo fatto il nostro dovere Abbiamo usato solo un caricatore ad arma Ed è stato molto difficile Vi invito ovviamente a rifare la challenge Perché non è assolutamente facile Così capirete cosa ho passato Vi ringrazio per la visione Vi invito a scrivermi altre challenge E vi do appuntamento domani Alla solita ora Ovvero alle 2.45 Con un nuovo video Ciao Mi orc E che cazpita E che cazpita